Tacconi per Bergovi che la gioca, Zaccarelli da questi a Pruzzo che va da Mazzola Che lancia Causio che si vola sulla fascia, bel passaggio a Virdis che la da... Baffo Moretti! Continua, continua, che fa Baffo Moretti? Che fa...segna... Il tiro e il gol di Baffo Moretti che non segnava dal 2007! Baffo Moretti, proprio l'incredibile! Bira Moretti, edizione limitata, campioni col baffo, collezionale tutte!